ciao ragazzi oggi plastifichiamo facciamo una plastificazione polvere plastificante delle testine piombate da plastificare io ho le mie modificate una pistola termica un po' 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 un Allora Bisogna azzeccare il punto per far plastificare il prodotto Quindi Il punto ideale Trovato il quale Pucciando nella polvere plastificante La testina È già bella che è plastificata Perfetta A volte Questo punto non lo si azzecca Si rimane un pochino indietro Quando si rimane un pochino indietro L'effetto estetico Diciamo che è diverso Non si ha quella Quella perfezione Della plastificatura Rimangono i grumi Quindi si va Ancora con la pistola a caldo A cercare scaldando Ma non troppo Se non si brucia Di cercare di migliorare Quello che si è ottenuto Però diciamo che Facendo Scaldando Fino al momento giusto Che Si vede La percezione Quando Diventa un pochino Luccicante Il piombo Allora lì si è Al momento giusto Ne facciamo un'altra Allora lì si è Allora lì si è Allora lì si è Niente ragazzi Anche questa Ha azzeccato il punto Ideale per far prendere La plastificazione Ed è venuta Una plastificazione Perfetta È molto semplice E veloce Ne facciamo un'altra In simpatia E poi ci salutiamo Allora lì si è Allora lì si è Allora lì si è In questo caso In questo caso era rimasta Leggermente Leggermente Un pelino Grumoso In superficie Con una sfonata Di perfezione Siamo andati a Raggiungere La perfezione Che non si vede bene Però vi posso assicurare Che È bella Lucida E precisa Ciao ragazzi E buona plastificazione La perfezione